Bella a tutti raga, bentornati in questo nuovo video dei Cugini di Campagna Oggi post partita del match disputatosi tra Saudi Arabia, cioè Arabia Saudita e Italia Terminato 2 a 1 in favore di Azzurri, con i reti al venturesimo di Balotelli Poi di Belotti nel secondo tempo e poi l'accorciato alle distanze al qualcosa Perché siamo tutti al, quelle dell'Arabia Saudita Che ha accorciato le distanze per il gol del 2 a 1 Per un'Italia che ha giocato nel primo tempo una buona partita Tutto sommato, l'Arabia Saudita non ha mai passato la metà campo Poi nel secondo tempo complice magari la stanchezza Perché la stagione è lunga e finita, la condizione atletica non è delle migliori L'Italia ha fornito una prestazione all'altezza, soprattutto per il secondo gol E ha rischiato più volte di prendere un altro gol su un intervento E' stato bravo Donnarumma su un errore di Criscito Comunque Criscito, a parte l'errore, ha giocato un'ottima partita Ha preso anche una traversa al primo pa Comunque percorriamo un attimo i gol Balotelli il ventunesimo, prende palla, sterza sul destro E poi da fuori con il suo classico tiro potente allo Balotelli Trafigge il portiere dell'Arabia Saudita Poi numerosi altri tentativi dell'Italia Appunto come ho già detto il traverso di Criscito Poi nel secondo tempo Balotelli esce per un piccolo problema Al flessore della coscia, destra O sinistra, insomma Entra Belotti che subito dopo Un cross, un calcio d'angolo di Buonaventura Stacca, parte del portiere Sulla ribattuta ancora Belotti A siglare il 2-0 per l'Italia Intanto c'era stato, pure dopo il gol Non mi ricordo, mi pare prima C'era stato un bel tiro a giro di insignia E' una grande risposta del portiere dell'Arabia Saudita Che comunque mi è sembrato uno dei migliori della squadra asiatica Per quanto riguarda invece il gol Sono una specie di cacata, un erroraccio di Zappacosta Che si dimentica di avere il pallone tra i piedi Si fa robare palla Poi il suggerimento di un giocatore dell'Arabia Saudita Per un altro, un al per al Passaggio al bacio Non è vero perché era anche forse un fuorigioco Però vabbè, uscita un po' a paperella di Donna Rum Sigla, non so chi, il 2-1 per l'Arabia Saudita Poi Donna Rum però ci mette dopo una pezza Con una bella parata con il piede Insomma, prestazione non molto convincente dell'Italia Ma come spesso ci accade Però diamo tempo a Mangini di operare Di fare il suo lavoro Per far sì che magari cominciano a giocare meglio Magari in test più probanti rispetto a questo Infatti nei prossimi giorni incontreremo anche Francia e Olanda E spero che Balotelli Per Balotelli non sia nulla di grave l'infortunio Perché vorrei che ci fosse Le partite soprattutto contro la Francia Anche perché si gioca nella sua Nizza Comunque Primo tempo abbastanza incoraggiante Sono andati bene Balotelli, Crescito Discretamente bene anche la coppia centrale del Milan Poi Giorginio abbastanza bene Pellegrini si è inserito molto Però si è mangiato un paio di gol Uno clamoroso Suo assisto di Zappacosta Politano ha sentito un po' il peso dell'esordio Non ha fatto una grandissima partita Poi nel secondo tempo sono subentrati Chiesa e Verdi Non hanno fatto niente di chiama Ma hanno giocato poco Da dire Balotti Ottima grinta Anche se ha sbagliato qualche passaggio Ma non fa niente Balotelli ha giocato bene di sponda Oltre che come finalizzatore Quindi bene Per il resto Insigne Aspetta qualcosina in più Però non ha demeritato Qualche tocco di classe Quindi Italia Bene ma non benissimo Diciamo bene ma non benassi Speriamo che le prossime partite vanno meglio Che le prossime amichevoli Possiamo vedere un buon calcio A partiti azzurri Però mi posso ritenere abbastanza soddisfatto A partiti di oggi Beh per oggi è tutto Fatemi sapere cosa ne pensate Mettete un like Iscrivetevi E niente Bello a tutti Ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti